ciao e benvenuto questo video oggi parleremo di algoritmi vedremo la definizione di algoritmo cercheremo di capire nel senso e vedremo come gli algoritmi sono rappresentati quindi vedremo pseudo codice e flowchart iniziamo subito a se non ti sei ancora iscritto canale fallo subito clicca il bottone iscriviti e segna anche la campanellina così il resterà aggiornato sulle nuove nuovi continui che andrò man mano carica iniziamo allora se andiamo a vedere la definizione di wikipedia d'algoritmo troviamo questa definizione un algoritmo è una strategia che serve per risolvere un problema ed è costituito da una sequenza finita di operazioni dette istruzioni consente di risolvere tutti i quesiti in quella classe allora vediamo un po di caratteristiche subito deve essere finito numero di istruzioni che hanno un inizio e una fine quindi deve essere deterministico cioè se io parto degli stessi input ottengo gli stessi output questo è fondamentale non ambiguo cioè le singole operazioni che lo formano devono essere tutte ben chiare e non soggetta interpretazione e questo perché nell'ottica diciamo di poter automatizzare un processo di poter avere un processo che è ripetibile non che ogni volta che lo genero non so cosa succede che lo lancio non so cosa succede inoltre deve essere generale cioè non è un algoritmo risolvere l'area di un particolare triangolo ma costruire un algoritmo che risolva l'area di tutti i triangoli quello sì è un algoritmo supplementa una funzione diciamo però è un singolo algoritmo lo stress l'importanza della finitezza determinatezza un'ambiguità deriva dal fatto che e della generalità anche deriva dal fatto che poi noi vogliamo eseguire vogliamo che ci sia un esecutore di questo algoritmo cioè che ogni volta che avrà un certo problema siccome l'algoritmo è una sequenza di passi che risolve quella la classe di problema quel problema che noi abbiamo di fronte appartiene mi basterà prendere l'algoritmo applicarlo al problema che sto andando a trattare e sono sicuro di arrivare alla soluzione questo è importante come se l'algoritmo fosse una ricetta diciamo di cui noi sappiamo che una volta che l'applichiamo questo ci risolve i nostri problemi è chiaro che per problemi complessi andremo a lavorare su molti algoritmi magari collegati tra di loro però l'idea che ogni singolo algoritmo deve avere queste caratteristiche quindi finitezza determinatezza non ambiguità e generalità adesso vediamo un pochino come sia possibile andare a descrivere il nostro algoritmo allora io ho fatto tempo fa un video sul teorema di jacopini bem che trovi qua sopra nella descrizione forse la sopra di me tra l'altro e questo teorema molto importante ci descrive quali sono i costrutti di base per descrivere un algoritmo e dice che sulla sequenza la selezione l'iterazione in base a questo vuol dire che noi una volta che riusciamo a mettere in piedi queste tre strutture abbiamo la possibilità di descrivere ogni algoritmo in modo tale che questo possa essere eseguito da un esecutore un esecutore qualsiasi cosa qualsiasi entità che possa prendere un algoritmo ed eseguirlo potrebbe essere un esecutore intelligente come un umano oppure essere un computer noi siamo interessati maggiormente ai computer però in linea di massima l'algoritmo è appunto generale applicabile a qualsiasi tipo di esecutore se andiamo a pensare adesso quelle possono essere le rappresentazioni che diamo di un algoritmo e ne abbiamo tipicamente due una è lo pseudocodice e l'altra invece sono i flowchart allora è lo pseudocodice è un modo testuale di descrivere il nostro algoritmo dovremmo andare ovviamente a capire come sono come sono fatte le strutture di base quindi quelle del teorema di bemia copini all'interno dello pseudocodice l'interno del flowchart allora nello pseudocodice è ovviamente banale pensare che una sequenza è una sequenza di istruzioni una per riga facile per convenzione possiamo dire che il fine della riga corrisponde al fine dell'istruzione senza di mettere punti punti virgola altre cose quando abbiamo finito andiamo capo basta quindi la sequenza qua sarà una semplice sequenza di istruzioni una sotto l'altra ricordiamoci sempre le istruzioni devono essere non ambigue ovviamente il flowchart avrà per le istruzioni elementari dei rettangoli che ora all'interno il nome dell'istruzione potrebbe essere un'assegnazione o altro l'assegnazione in particolare sarà fatta mettendo due punti uguale poi il il 2 il valore insomma ok questa è la sequenza quindi nel pseudocodice il corrispettivo sarà uguale a 2 semplicemente adesso abbiamo una selezione nella selezione nel caso della dello pseudocodice avrò if la condizione che è un'espressione che mi ritorna vero falso potrebbe essere un'espressione logica ovviamente quindi maggiore minore uguale diverso una qualsiasi espressione che mi ritorna vero falso per il costrutto is quindi il blocco di istruzioni da eseguire e nel caso in cui la condizione vera sarà indentato quindi questo è un blocco di istruzioni potrebbe contenere altre selezioni non abbiamo problemi di complessità è un insieme di altre istruzioni questo eseguito se è vero se invece volesse eseguire anche del codice quando la condizione falsa metterei else in alternativa quindi un altro blocco da eseguire quando con la condizione è falsa ovviamente se ho soltanto la prima parte fino a all else escluso ho una selezione a una via altrimenti una selezione a due vie e se volessi selezionare solo il falso beh metto la negazione nella nella condizione la condizione questa poi si vede insomma in base al linguaggio poi uno sceglie può scegliere diciamo gli operatori logici che hanno senso per il problema che stai risolvendo di solito gli operatori logici maggiore minore con gli uguali uguali diverso sono quelli che si utilizzano allora nei flow chart invece la selezione come avviene seleziona una via io ho bianco ho il flusso del programma poi la mia condizione che è esattamente la stessa questa è esattamente quello che va qua poi avrò un ramo che viene eseguito quando è vero un ramo che viene eseguito quando è falso e poi il programma continua insomma c'era delle cose da eseguire in un caso nell'altro e poi il programma continua il suo flusso di esecuzione la cosa interessante in questo caso è che se la selezione questa è la selezione a due vie come lì fans è esattamente la stessa cosa se fosse una selezione a singola via sarebbe fatta in questo modo quindi avrei questo leaf la condizione e poi ad esempio potremmo dire che se vera se vera fa questo se falsa va avanti se vera va qui e qua eseguirà delle altre istruzioni poi ritorna qua cioè faccio il blocco indentato il primo blocco dell'if solo nel caso in cui la condizione sia sia vera questo sostanzialmente quello che ci che si serve dopodiché abbiamo l'iterazione o la terza tipologia di blocchi che ben mia copini buonissimi ci hanno descritto all'iterazione quindi andiamo giù di iterazione iterazione pesante allora lo chart è stato codice while intanto che una certa condizione è vera metto i due punti per dire che finita la condizione quindi posso andare a capo esegue un certo blocco di codice il controllo corrispettivo nel flash art è questa condizione in questo caso è una condizione quindi se falsa prosegue al programma se vera ci vuole fare così se vera eseguo del codice e poi ritorno alla mia condizione quindi continua eseguire il giro questo questo fino a che la condizione resta vera appena conseguenza falsa invece scendo di qua e proseguo con il flusso del programma si chiama interazione con controllo in testa il guai poi c'è il dual posso scrivere così du blocco e poi in guai attenzione che il while è allineato col du che non è all'interno è allineato col du qua dentro c'è le mie istruzioni e guai qua la condizione ok e in questo caso il controllo viene fatto in fondo questo vuol dire che almeno una volta nel ciclo entro quindi ciclo du while una volta c entro poi in fondo viene fatto il controllo se è falso prosegue se è vero ritorno avanti ritorno da capo allora scriviamolo come pseudo codice e come fruggiato allora ho le mie istruzioni poi alla mia condizione se falsa vado avanti se vera ritorno e qua eseguo però non ho aspettato non c'è il blocco già già questo prende questo blocco e questo quindi entro perché scendo da qua faccio le istruzioni condizione la condizione vera si torna indietro la condizione falsa vado avanti interazione questo c'è un altro tipo di interazione che è molto utilizzato in informatica il ciclo for non è un'interazione diversa è un diciamo un do while con una variabile inizializzata per capirci nello pseudo codice si può scrivere in questo modo come for i uguale a 0 inizializzo la variabile i minore stretto di 10 controllo se devo fare un'altra iterazione incremento modifica della variabile uguale di più 1 in questo caso al mio blocco di istruzioni da eseguire nello nel flowchart bisogna ragionare un attimo allora io entro nel flowchart entro nel ciclo for o da inizializzare mio io uguale a 0 poi all'interno cosa faccio eseguo le istruzioni a questo punto cosa faccio dunque scelgo posso no mi conviene fare così sono la selezione del palatino faccio la selezione i minori di 10 eseguo le mie istruzioni e poi poi in fondo il incremento sulla variabile uguale più 1 e poi ritorno alla condizione si qua in realtà dovrei tecnicamente tornare qua sopra ci siamo capiti insomma la mia condizione minore di 10 è fatta così se è vero eseguo eseguo il blocco incremento tutto il resto se è falso vado avanti se è falso proseguo col mio programma ecco queste due rappresentazioni non sono differenti rappresentano esattamente la stessa cosa cioè siccome il teorema di benmiacopini ci ha detto quali sono i blocchi fondamentali per poter descrivere ogni tipo di algoritmo queste sono due possibili rappresentazioni che possiamo dare ai nostri programmi costerà giusto per avere un po di idea di quale sia la nomenclatura di come sia possibile descrivere i problemi è chiaro che per scrivere un algoritmo avrò sempre uno start che è il punto di partenza poi c'era tutto il mio algoritmo e poi avrò l'end che sarà il punto di fine allo stesso modo per i flow chart avrò star su una degli ovali che non so disegnare evidentemente però e end e star con la freccina che esce con la freccina che entra mettendo insieme a queste cose si possono descrivere tutti gli algoritmi ci sono anche altre rappresentazioni potenzialmente sì però queste sono le rappresentazioni più utilizzate una cosa interessante dello pseudo codice il fatto che se io utilizzo lo pseudo codice un linguaggio di programmazione semplice come potrebbe essere a python ad esempio una volta che ho scritto il mio problema in realtà ho un programma eseguibile però non bisogna collegare le due cose cioè la descrizione dell'algoritmo esiste a prescindere dal fatto che ci sarà un esecutore in grado poi di eseguirlo nell'esecutore sappiamo che ci sarà ma lui potrà ogni tipo di esecutore potrà eseguirlo proprio perché il nostro algoritmo la nostra descrizione rispetto a quelle caratteristiche di finitezza non ambiguità che abbiamo visto prima all'inizio e finitezza e compagnia la questione interessante invece è che il teorema di bimio copini ci consente di dire che con questa cosa che abbiamo visto oggi possiamo descrivere tutti gli algoritmi che bellezza che bellezza se dovesse descrivere che ne so un algoritmo un algoritmo che diciamo fa la somma chiede due numeri in input e la si fa la somma i due numeri così vediamo anche le altre istruzioni quindi quella di input utente quelle di stampa di input e di che mancano qua in questo discorso allora poi cominciamo dall'apsodo codice start i numeri li chiamiamo a e b quindi a uguale a input immaginiamo che ci sia una chiamata input che prende l'input dell'utente qua mettiamo un testo da qualcuno scriveremo all'utente quindi sarebbe inserisce a b è uguale ad input inserisci b a questo punto faremo roma somma uguale da pb e ora possiamo fare che stampiamo la somma print insomma insomma e il nostro programma è finito and a posto se usiamo il flow chart invece cosa facciamo start start lo mettiamo tra così precino allora recuperiamo in input una variabile un parallelogrammo con una equa prendere che indicare che un input e la variabile che si va a prendere input poi in input mettiamo di poi dobbiamo assegnare a somma il a più b somma uguale da più b qua c'è in certe notazioni sono due punti uguale in certe notazioni sono solo uguale dipende possiamo prendere una convenzione ovviamente e poi come output abbiamo somma quindi con i parallelogrammi con la io e la o faccio quello che faccio nell'apsodo codice con input e print e sono post e poi end per finire il programma ok questo è un esempio di semplicissimo senza nemmeno usato nessuna nessun costrutto particolare che non fosse l'assegnamento e l'input e l'auto però ci mancavano da vedere questi blocchi fondamentali così abbiamo tutto quello che ci serve per gestire i blocchi della degli algoritmi secondo te lo dei beniacopini che abbiamo visto sopra queste sono le strutture per gestire l'input e output che ci servono all'interno dell'algoritmo e questo è quello che bisogna sapere quindi io ti ringrazio per l'attenzione e ti do appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao